Benvenuti su News Flash Italia. Vi invitiamo a lasciare un like, commentare e attivare la campanella per rimanere sempre aggiornati sulle ultime notizie. Grazie! Alberto Matano ha appena festeggiato il suo cinquantesimo compleanno e si trova in un momento di grande soddisfazione, sia nella sua vita privata che nella sua carriera professionale. Il noto presentatore della vita in diretta sta festeggiando il successo della nuova stagione del programma di Rai 1 che ha ripreso ad intrattenere il pubblico dal 9 settembre. La prima puntata ha ottenuto uno share del 21.4%, con un 1.759 mila telespettatori, picchi del 24%, registrando un aumento del 3% rispetto all'anno precedente. Per celebrare questo successo e il suo compleanno, Alberto ha trascorso del tempo in spiaggia insieme ai suoi fan. La celebrazione di Alberto Matano è stata all'altezza delle aspettative. Grazie al suo impegno e entusiasmo negli ultimi cinque anni, il presentatore ha ottenuto un grande successo con la vita in diretta. Dopo l'accoglienza straordinaria della prima puntata, Matano ha festeggiato il suo cinquantesimo compleanno, divertendosi in spiaggia con amici e fan. Ha condiviso su Instagram alcune foto che celebrano questo importante traguardo, mostrandosi pieno di gioia di fronte all'obiettivo della macchina fotografica. In questa stagione televisiva, Alberto Matano parteciperà anche a Ballando con le stelle, dove assegnerà il premio speciale della serata alla coppia più meritevole.